e fin qui uno dice ok tutto bene fanno la pizza ma la pizza ragazzi con la coca zero praticamente fanno una pizza dolce una buona ricetta ma la pizza dolce cioè ragazzi io non so devo iniziare a prendere gli antidepressivi lo stile italiano è andato a danno e gara nella coca zero impasto fantastico si levica quasi morbido nella bocca e sai che io stasera cena ti porterò qualcosa di veramente buono ed unico un impasto fantastico salato e dolce al tempo stesso perché fatto con la coca zero moriremo molto presto mix salato e dolce si ha scoperto il termosifone